Musica Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video Torniamo a parlare di meccaniche bradipe con due debuff Di cui uno attivo, blocca destrezza e tempi di ricarica E uno istantaneo, vale a dire mettere le skill avversarie in cooldown Ci sono skill che ci permettono di aumentare questo cooldown di qualche punto Oppure quelle che proprio mettono completamente tutte le skill avversarie in cooldown Sono debuff che finora hanno trovato ampio utilizzo in arena prevalentemente Perché se noi impediamo agli avversari di utilizzare le loro skill più potenti Di conseguenza saranno molto molto meno pericolosi Come al solito peschiamo da Yumi Love alcuni dettagli extra su queste destrezze Quindi iniziamo appunto dalle destrezze che impongono i tempi di ricarica in qualche modo Testualmente queste skill mettono le skill avversarie in ricarica completamente E ovviamente di conseguenza gli avversari non potranno utilizzare i loro attacchi più performanti Vedete che i campioni in grado di fare questo tipo di cosa sono veramente veramente pochi E i migliori sono ovviamente i leggendari che lo fanno in totale sicurezza Ci sono anche due epici, in particolare Sinescia è molto valida E Ferroderma Orsino che però può farlo solo in determinate circostanze Quindi secondo me non è un grandissimo interprete Questi campioni mettono le skill in cooldown completamente Non aumentano i tempi di ricarica di qualche livello Che secondo Yumi Love è una cosa completamente diversa Quindi vedete che c'è un'altra lista di campioni che fanno questa cosa qui Aumentano di 1, 2, 3 livelli in base alle performance del campione I tempi di ricarica delle skill avversarie E tra tutti quello più significativo e che vedremo anche oggi è proprio Basher Perché dicevo che questa cosa è utile prevalentemente in arena? Perché in arena la battaglia si consuma in uno o due turni Quindi se io impedisco a tutti gli avversari di utilizzare le loro skill più potenti Anche solo per due turni Molto probabilmente la mia battaglia l'ho vinta Inoltre questo tipo di debuff non è soggetto al buff blocco debuff Perché non è un debuff materiale Non è che compare un simbolino come succede invece con il debuff blocca destrezze e tempi di ricarica Semplicemente queste skill mettono in cooldown le skill avversarie Questo torna molto molto utile contro quei team per esempio che si difendono con dei set immunità Oppure contro quegli avversari che non possono essere facilmente controllati Come Foli, come Norog e così via Tornerà molto utile anche contro tutti quei team dove c'è un campione come Sify, come Duchessa Per esempio che hanno la possibilità di mettere il blocco debuff Magari nel nostro team non c'è qualcuno in grado di rimuovere quei debuff Quindi cosa si fa? Per arginare il problema Nel caso in cui questi campioni partano prima di noi ed è probabile che succeda Si utilizza appunto Basher, si utilizza Condottiero Quindi si impone i tempi di ricarica I nostri avversari non possono fare più niente che non sia la loro A1 Questo non significa che non siano pericolosi Però ci sono molti campioni che attaccano ad aria Che fanno molto molto danno con le loro skill primarie O che semplicemente hanno dei debuff di controllo anche nel loro skill primarie A chi stordimento, chi congelamento O magari gli è stato dato un set che controlla Quindi il set stordimento e così via Pertanto questa forma di controllo è valida Però lascia un margine di insicurezza Che bisogna valutare molto molto attentamente Quindi io la raccomando Sono nei contesti in cui siete sicuri al 100% di quello che dovete affrontare E come al solito non c'è niente di meglio della prova pratica Per capire quello che intendo Supponiamo che io sia un giocatore appena entrato in oro 4 E quindi devo affaggiarmi con team molto molto diversi Strutturate in maniera diversa E dove molti utilizzano anche l'intelligenza Oltre alla forza bruta Per esempio questo team avversario che ci accingiamo ad affrontare Possiede un Kaitis, una Zargala, un Elegaius e un Cardinale Come funzionerà questo team? È molto molto semplice Questa persona sicuramente ha realizzato un Kaitis, una Zargala e un Elegaius fragili Che possono morire molto molto facilmente Mentre Cardinale avrà o una resistenza molto alta Oppure un set immunità Oltre ovviamente ad una difesa e ad una vita sufficienti Il potere di questo team mi suggerisce che lei non abbia una resistenza molto elevata Però sicuramente le avranno dato un set immunità Ci scommetto quello che volete Qual è il bene di Kaitis all'interno di questo team? Dobbiamo analizzarlo un attimino Kaitis è un campione di tipo attacco Che fa un buon danno con le sue skill Il non è niente di eclatante ma il grosso lo fa quando si trova nei guai Infatti lui attaccherà tutti i nemici per due volte Il danno aumenta in proporzione alla quantità di HP perso da questo campione Però qual è la caratteristica? Che questa skill è disponibile solo ed esclusivamente Quando lui scende al di sotto del 50% dei suoi HP Quindi come fare per sfruttarla e soprattutto per sfruttarla al pieno del suo potenziale Lo si mette in team con Cardinale Cardinale infatti ha la possibilità di rianimare tutti Con un 25% dei loro HP ma soprattutto con i contatori al massimo Quindi Kaitis sarà pronto per utilizzare questa potentissima skill subito E lo farà senza che i nostri campioni possano contrastarlo in qualche maniera Perché il suo contatore sarà più alto di tutti gli altri Va da sé che nella struttura di questo team L'idea è che muoiano tutti tranne Cardinale Cardinale prende turno Resuscitano in sequenza Elegaius che toglie tutti i buff al mio team Zargala che riduce la difesa ad aria E infine Kaitis che schianta tutto Quindi c'è una logica solida, efficace e funzionale Che potrebbe dar fastidio seriamente a un sacco di team anche abbastanza forti Se non si tiene in considerazione appunto come funziona il team Dal canto mio invece inserito un team un po' sgancherato Però funzionale Vedrete che vinceremo Metto già le mani avanti per quanto riguarda la velocità Che non è corretta, mi dispiace Ma purtroppo il mio basher non è spittunato Insomma è pensato per la cripta, non è pensato per l'arena E proprio per questo dovremo accontentarci Ad ogni modo vedrete che le cose andranno bene lo stesso Ah ecco, vedete che avevo ragione Il nostro avversario giustamente, giustamente Ha messo la sua Cardinale in set immunità Quindi adesso il nostro buon amico Duck Potrà mettere il suo riduci difesa e il suo riduci attacco a tutti Ma di sicuro non a lei Magari qualcuno morirà anche, no, peccato Ecco adesso c'è Bashar In genere la cosa viene invertita Quindi in genere si tende a fare il controllo E poi le riduci difesa e riduci attacco Però va bene lo stesso insomma Metto tutte le skill avversarie in cooldown Vedete che adesso Cardinale non ha potuto utilizzare la sua skill Che rianima in questo turno Potremmo chiudere la partita molto molto facilmente Però adesso vorrei concentrarmi su cosa succede Se il nostro team non fosse in grado di permettere a Cardinale di rianimare tutti quanti Quindi invece di attaccare con la seconda skill che dovrebbe essere in grado di shotare tutti lo stesso Attacchiamo con la prima Allora, magari terminiamo anche la vita No, è vero che lui è la skill che si rianima Ok, ok, ci siamo, ci siamo Allora, vedete, Zargal non ha potuto utilizzare quella che riduce la difesa E Kaitis non ha potuto utilizzare la sua skill che fa danno ad area E quindi adesso il team avversario è veramente spacciato Perché Cardinale ha sfruttato tutte le sue cartucce E quando lei rianima Rianima gli alleati con poca vita Quindi o funziona tutto in quel turno Oppure non funziona più niente Bisogna stare molto molto attenti Perché funziona però Ha delle grosse limitazioni queste strategie Nel momento in cui le cose non vanno come devono Allora, vediamo adesso cosa possiamo fare Tra l'altro la nostra amica Cragno Corona Ha contribuito soltanto per Laura a questo giro Perché non penso che riuscirà a fare qualcosa di buono Comunque non importa Non importa perché il resto del team gestirà senza troppi problemi Eh, ok Sì, vai, bravo Beh, magari no, eh Magari possiamo anche darle un po' di Però comunque viene continuamente stordita Quindi che fastidio Che fastidio, non importa Mai visto, devo dire, un Elegaio sin set stordimento È la prima volta che mi capita in tutta la mia vita Ma comunque non importa Allora, tutta questa manfrina Perché in realtà con i campioni che ho a disposizione Questa partita avrei potuto vincerla con una facilità disarmante Però ho voluto utilizzare un team Che magari molti giocatori che entrano in oro 4 per la prima volta Potrebbero avere Quindi nessun campione leggendario Uno speeder decente però raro E un campione buono, insomma, a tenere a bada le destrezze avversarie E poi riduci attacco, riduci difesa e danno Danno che non abbiamo potuto esprimere in questo caso Pazienza Ma comunque va bene lo stesso Abbiamo vinto, questa è la cosa più importante Però ecco Se io non avessi messo in cooldown le skill avversarie In particolare quelle di Zergale e quelle di Kytis Il team se la sarebbe vista non brutta Bruttissima Ve lo garantisco proprio al 1000% Questo significa che il team funziona Una volta che viene speedtunato Nel senso, una volta che tutti i campioni fanno quello che devono fare Nell'ordine corretto Non abbiamo più paura degli avversari Per quanto anche la strategia avversaria sia stata strutturata con una certa logica Perché ho detto che generalmente questo tipo di debuff Insomma, questo tipo di controllo Di mettere le destrezze in ricarica dei nostri avversari è utile solo in PvP Perché generalmente contro i boss non è possibile imporre i tempi di ricarica Tra le varie, insomma, caratteristiche della loro skill passiva Presenza onnipotente si chiama così Comunque, insomma, quella che impone tutte le varie limitazioni Quindi non si può congelare, non si può stordire, non si può fare Non si può imporre i tempi di ricarica Ma il nuovo drago no Ne abbiamo già parlato nel video dedicato Questo rende appunto questi campioni tremendamente forti contro di lui Visto che potremo appunto applicare i tempi di ricarica Vediamo adesso come si comportano i vari tipi di destrezze Quindi invece di utilizzare la skill di... Basta turni, sventura Bravo, ok Allora, invece di utilizzare la skill di Elegaius adesso Visto che prenderà turno lui Ne utilizziamo un'altra, va bene lo stesso Ma utilizziamo la seconda skill di Basher Vedete che adesso Le skill del boss sono state messe in cooldown Vedete però anche Che non sono state messe in cooldown le sue passive Perché questo tipo di skill che impongono i tempi di ricarica Non si attivano per le passive Anche se queste possono avere dei tempi di ricarica Soltanto le skill attive possono essere bloccate in qualche modo Quindi le sue passive che gli permettono di creare scagnozzi E poi mangiarseli, insomma utilizzarli per fare varie cose Quelle purtroppo le dovremo gestire E avremo anche modo di parlarne Visto che nel video sui boss non ne avevo parlato Ed è veramente molto molto importante Allora che cosa succede? Il boss ha creato due scagnozzi Un prete e due guardiani I due guardiani hanno la caratteristica di ridurre i danni ad area pesantemente I danni ad area verranno ridotti del 75% Mentre lo scagnozzo qui il prete Ha la possibilità anche lui di piazzare un debuff blocco tempi di ricarica Come fa il boss con la sua skill primaria Però ha la caratteristica utile per noi Che se lo ammazziamo Tutte le nostre skill verranno completamente resettate e pronte all'uso La cosa quindi che consiglio è Fiondatevi contro il prete Schiantatelo immediatamente Questo vi dà la possibilità di resettare tutto quanto E poi vi consiglio di concentrarvi Insomma con gli altri campioni Sui due in modo che muoiono Entro questi cinque turni che vedete qui Perché se scade il cooldown di questa passiva Succedono cose brutte Come minimo il boss è sicura Se non peggio insomma Quindi state molto 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 attenti Allora Vedete che adesso il boss ha preso turno E il suo cooldown è sceso a 1 Quindi nel prossimo turno sarà libero di fare quello che gli pare Possiamo imporre ulteriormente i tempi di ricarica? Sì, noi possiamo Quindi adesso per esempio con Elegaius Vedete che abbiamo ripristinato completamente il cooldown Di tutte le skill del boss che adesso dovrà aspettare di nuovo Quindi non preoccupatevi Se avete più campioni come basher per esempio Avete bisogno di avere più controllo sul boss Vi portate due basher Non preoccupatevi Perché le cose si possono sommare Insomma Allora Adesso andiamo a ridurre la difesa In devolimento di tutti quanti Grandioso In questo caso sarebbe completamente inutile Utilizzare questa skill Visto che il boss è già colpito dai tempi di ricarica E quindi andiamo a massacrare i due guardiani Ci vorrà un po' di tempo Perché comunque sono belli forti Però se li attacchiamo a target singolo Non sono poi così tanto pericolosi Come avete visto insomma Poi è ovvio che nella torre difficile ad alti livelli Saranno più fastidiosi anche loro Però lì semplicemente si porta qualcuno di veramente veramente abile A spalmare la gente a target singolo E vedrete che le cose andranno benone Adesso non ci resta altro che massacrare il boss Possiamo aspettare Visto che lui ha ancora un bel po' di tempi di ricarica da sfruttare Nel frattempo utilizziamo le nostre skill più potenti Li facciamo male 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 E il tempo passa E vedrete che si vincerà Proprio allegramente Ma perché? Semplicemente perché abbiamo sfruttato Al massimo la debolezza più importante di questo boss Ovvero la sua vulnerabilità Alla manipolazione dei tempi di ricarica delle skill Una volta che noi abbiamo fatto questo La partita proprio va giù in scioltezza Quindi adesso deve aspettare di nuovo E poi aspettare ancora di nuovo Nel caso in cui le cose le vadano male non c'è problema Perché lo può fare anche Basher E perché è importante portarne due Perché se avete visto Elegaius è in grado di controllare le destrezze avversarie Con una certa facilità Essendo più veloce del boss È sempre pronto quando manca un turno A rimettere le skill in cooldown Però potrebbe essere resistito Perché serve la precisione per sfruttare questa skill Quindi io dovrò dare ad Elegaius Una precisione sufficiente Che mi darà naturalmente delle garanzie Però nel caso in cui venga resistito Perché c'è sempre la probabilità Che questo possa succedere Per quanto piccola Un 3% di probabilità di venire resistiti È sempre presente E allora in quel caso È andata male con Elegaius Non importa perché c'è Basher pronto a subentrare Quindi ecco questo potrebbe essere un team che funziona Anche nelle fasi più difficili Togliete Lidia e mettete qualsiasi debuffer Va benissimo Insomma non è che debba essere per forza lei Anche un duck di turno Un cavaliere cervino di turno Quello che avete va benissimo Brago è molto molto bravo A fare danno a target singolo Con la sua seconda skill Che è una cosa molto buona Quindi potete tranquillamente schiantare subito il prete Vi resetta le skill E avete di nuovo a disposizione Un ulteriore turno a target singolo Per schiantare i due scagnozzi che restano E quindi nel giro di un paio di turni Vi li siete tolti dai piedi Che è una cosa molto molto importante da ricordare Ma comunque il cuore della strategia di questo team È tenere il boss incapace di utilizzare le sue skill più potenti Perché quelle sì sono tanto tanto pericolose Ve lo assicuro C'è poi il debuff blocca destrezze tempi di ricarica Contiene un'incongruenza nel suo nome Perché allora che cosa fa fondamentalmente Un campione che è affetto da blocca destrezze tempi di ricarica Semplicemente non potrà utilizzare le sue destrezze più potenti Tranne la prima Per tutto il tempo in cui è attivo questo debuff Però a nome Per me Io lo trovo un po' fuorviante Perché dice blocca destrezze E questo lo abbiamo capito Ma anche blocca tempi di ricarica Significa che i cooldown delle skill Dei miei avversari Se queste erano già state utilizzate Non scadrà No Quello prosegue normalmente Infatti vedete che la skill dice proprio Il cooldown delle skill dei campioni colpiti da questo debuff Si ricaricheranno normalmente Quindi molta molta attenzione Perché vi permette insomma di impedire ai vostri avversari Di utilizzare le loro skill più potenti Finché attivo questo debuff Ma poi saranno liberi di fare quello che vogliono Quindi è una strategia Utile Sicuramente Valida Però pericolosa Dovete essere sicuri al 100% Di quello che fa il vostro team Perché avete due turni Avete due turni per fare le vostre cose Nella maggioranza dei casi Insomma La maggior parte dei campioni Mette questo debuff per due turni E questo è il tempo che avete Per fare le vostre azioni Se qualcosa va storto Siete la merced dei vostri avversari Ci sono molti più campioni Che sono in grado di mettere questi debuff Chi ha target cingolo Chi ha d'area Sono ben pochi quelli che lo fanno Con un 100% di probabilità Perché capite che insomma Sarebbe una cosa veramente molto potente Però per esempio Lugan lo fa Lugan campione molto molto forte Secondo me Sia in arena che in un sacco di altri contesti Però lui ha la possibilità con i tomi Di mettere bloc a destrezza tempi di ricarica Per due turni ad area Con un 100% di probabilità Credo che sia Forse l'unico Perché dunque Egemon no 50% Forse Contessa Non mi ricordo più No anche Contessa la può fare Bene quindi un altro Mentre Bistophus no 75% con i tomi Che però è già una cosa Veramente veramente buona Questi campioni Io non ce li ho Tranne Egemone Quindi vediamo un po' Che cosa combina Egemone Un campione come Egemone Torna utile Non soltanto in difesa Dell'arena Dove è davvero davvero fastidioso Ma anche in attacco Nel momento in cui io mi trovo contro un team Per il quale non sono sicuro Di riuscire a vincere Sulla velocità Quindi se so Che il mio giudicatore È veloce Ma non abbastanza Per affrontare il team avversario E in genere I team che hanno Sifi e giudicatore Sono tutti molto molto veloci Allora Che cosa mi conviene fare? Egemone potrebbe aiutare E dico potrebbe Quindi questa partita Noi potremmo perderla malamente Oppure vincerla Dipende che cosa fa Egemone Poi dipende anche dalla velocità Perché magari Il mio team È più veloce Di quello che può sembrare Ma non credo Vedete che abbiamo messo in cooldown I tre campioni Più fastidiosi Di tutto il team Quindi è andata particolarmente bene Sifi non potrà Aumentare il contatore Del resto del team E non potrà mettere Tutti i suoi buff fastidiosi Giudicatore può fare Quello che vuole Pazienza Ma Madame Serris E Trunda Potranno utilizzare Solo ed esclusivamente La loro skill primaria Potente Per carità Ma solo La loro skill primaria Inoltre Il fatto di aver bloccato Sifi Probabilmente Potrebbe scombinare Tutto lo speed tuning Avversario Allora È andata bene Siamo comunque Più veloci noi Però poteva non essere così E il fatto che Sifi Sia bloccata È sicuramente Veramente Tanta tanta roba Vediamo se è stato bravo L'avversario No Ha fatto un aggiudicatore Più veloce Di una Sifi In genere Si fa il contrario Per tutta una serie di motivi Però comunque Vedete che adesso Siamo pronti Per spalmare Il nostro avversario Non c'è il riduci difesa Quindi dovremo Appellarci Alla santa E potente E potente Trunda E sperare Che riesca A schiantare Tutti quanti Ah Questo avversario Non è neanche dato Resistenza Alla sua Sifi Peccato Se avesse avuto Un po' di resistenza In più sarebbe morta Ma va bene Non importa Ci prendiamo un altro turno La schiantiamo adesso Dai Ok 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 Bene Quindi Egemone È una lotteria È una lotteria Perché poteva metterlo Su tutti quanti Poteva non metterlo A nessuno Quindi Attenzione Ad utilizzare Un campione Come lui Perché non è Assolutamente Scontato In difesa È una manna Perché in difesa Non ci importa Vincere Ci importa Pareggiare Insomma Quindi Se lo mette A tutti quanti Ha bloccato Il team avversario E noi abbiamo vinto Se non lo ha messo È una partita persa Pazienza Oppure in ogni caso Comunque il team C'è da giocare In attacco È una lotteria Però vedete che In questo caso Ci ha permesso Di vincere Perché Perché è impedito Agli avversari Di utilizzare Le loro skill Più potenti Quando Potevano farlo Quindi Blocca Destrezze Tempi di ricarica È anche lui Un debuff potente Si è utilizzato Nel modo corretto E si è utilizzato Nel posto corretto In cripta È un discorso A parte Perché non è che Tutte le fazioni Hanno a disposizione Uno che stordisce Uno che cura Uno che controlla Gli avversari In qualsiasi modo Ognuna Ha delle eccellenze E dei punti deboli E quindi Sfruttare campioni Come Lugan Per i gonfalonieri Piuttosto che Bistofus Per i cavalieri Redivivi E Gemone Sempre per i cavalieri Redivivi Può fare la differenza Tra vincere e perdere Perché In quel particolare Contesto Non è proprio Così semplice Trovare Campioni che fanno tutto In tutto il resto Delle partite Invece avremo Di supposizione Tutti i nostri campioni Tutti quelli che Stordiscono Tutti quelli che Congelano Insomma Tutti quelli che fanno cose Per tenere a bada Gli avversari Quindi penso che Tra tutte le forme di controllo A forma di debuff Blocca destrezza e tempi di ricarica Sia quello un pochettino più fragile Nel contesto PVE Ma in arena È devastante Se utilizzato nel modo corretto E in cripta Può farvi la differenza Quindi Di sicuro I campioni bravi A mettere questo tipo di debuff Non sono pollacci Non cestinatevi Perché vi torneranno utili Sicuramente da qualche parte Detto questo Il video finisce qui Come al solito Scrivetemi le vostre domande I vostri commenti Quello che vi pare qua sotto Perché ci tengo davvero Lasciate un mi piace Se avete gradito Come al solito Iscrivetevi al canale Cosa super importante Accendete la campanella Perché se no Anche le vostre destrezze Verranno bloccate E come dico sempre Siate furiosi Ma rimanete bradipi